Ma benvenuti ragazzi, benvenuti in questo prossimo video, io sono Rolando Gimbrega e oggi siamo qui per mostrarvi come ottenere ben 13.500 di vac da shoppare ovviamente a modo vostro Ragazzi che dire, prima di magari dire fake, bro se è un fake non è vero, comunque ragazzi è un glitcho Guardatevi tutto il video, prima di dire fake, ovviamente guardatevi il video perché anche nello scorso video sono persone che magari non hanno visto tutto il video e dicono fake No ragazzi, guardatevi il video e poi capirete il tutto E ovviamente iscrivetevi al canale, condividete questo video dappertutto, attiva la trampellina per non perdervi nuovissimi video di questo genere E se volete andarmi a sicuro su Instagram, link in descrizione, vi terrò sempre aggiornati su qualsiasi live barra video Che dire, carambo che nel tutto, come sempre, bella boys, buona visione Ok, eccoci qui ragazzi, eccoci qui, come vi ho detto dalla pre-intro, come vi ho detto dal titolo Oggi siamo qui per spiegarvi come ottenere ben 13.500 GB da spendere nello shop di Fortnite Intanto ragazzi buttiamoci a siepi, dai siepi Ovviamente ragazzi vi dico già da subito, prima di scrivere fake, bro se è un fake, non funziona, bro ma se è un fake, non è vero che non è vero questo Ragazzi guardatevi tutto il video e poi dopo magari parlate Perché è già capitato nel video precedente, molti di loro non hanno visto il video e hanno scritto fake Quindi, vi dico già da subito ragazzi E' una mega estrazione, una mega estrazione che appunto andrò a fare Quindi, ho portato, ho provato anche a portare un glitch, però ragazzi ho provato sinceramente vari glitch ma non funzionano E quindi ho deciso, dai, c'è una cosa, visto che non funziona nessun glitch, decido di fare un'estrazione E niente ragazzi, come appunto, vi sto dicendo ragazzi, io glitch, fake, non li porto a questo punto preferisco Non portate, preferisco portare delle estrazioni direttamente E per partecipare a questa estrazione è veramente molto molto semplice Veramente molto semplice, ovviamente occorrono dei vari passaggi Sinceramente, ragazzi, più che altro invece di portarvi glitch fake Invece di portarvi glitch fake, ragazzi, porto un'estrazione Perché sennò vi faccio perdere 10 anni della nostra vita a guardare il video E però non funzionerà un tubo Anche perché su YouTube, ragazzi, YouTube Italia, molti di loro portano glitch Però sono tutti fake, la maggior parte E appunto, ragazzi, per partecipare a questa estrazione bisogna fare ben pochi passaggi Il primo passaggio è ovviamente, ovviamente, fondamentale Dovete essere iscritti al canale Se non siete iscritti al canale, ovviamente non potete partecipare Secondo passaggio, molto molto importante Magari per voi sarà qualche capolata Attivare la campanellina delle notifiche Così, in modo tale, ogni volta che andremo in live Oppure vi farò altre estrazioni Oppure magari vi porterò un glitch veramente Se magari lo riesco a trovare, ragazzi, un glitch che seriamente funziona Magari ve lo porto anche Ricordatevi che qua non porto mai contenuti fake Magari glitch fake che non funzionano E niente, appunto, bisogna attivare la campanellina Per restare sempre aggiornati Se non sarete iscritti e volete provare a fare furbi È inutile perché tanto a me arrivano le notifiche E terzo passaggio, ragazzi, molto importante Lascerò un bel eccozzo a questa live Quarto passaggio molto importante Andarmi a seguire su Instagram Perché vi dico già da subito che questa estrazione L'andremo a fare su Instagram Quindi, se non mi andrete a seguire su Instagram Non potrete partecipare all'estrazione Vi dico già da subito che il mio profilo Instagram è privato Quindi mi dovete inviare la richiesta Ovviamente vi lascerò il link Instagram in descrizione Così cliccate sul link e voilà Subito apparete sulla pagina e voilà Mi seguite Noi, ragazzi, quattro passaggi molto semplici Non credo che sono difficili, ragazzi Comunque, con questi quattro passaggi molto easy Molto easy, veramente molto easy Potete avere la possibilità di vincere 13.500 v-back Quindi dipende tutto da voi Cerchiamo di raggiungere 100 lecocci Intanto io mi sto a fare questa bellissima partitona Se volete godirvela insieme a me Volete godirvela più che altro insieme a me Poi ovviamente fatemi sapere un vostro parere, ragazzi A riguardo agli altri glitch magari che portano Perché ho visto un po' di glitch, ragazzi, americani Ve lo volevo portare anche in glitch Però questo non funzionava Ho detto che cavolo porto Poi dopo è fake È inutile Tutto ciò qui non è atterrato nessuno Che bello Trovando casse leggendari Ma dai, ci sta, ci sta Pulito, ex Pulito, pulito, pulito Ma dove cavolo stanno questi quei ragazzi Dove cavolo stanno Ovviamente, ragazzi, se volete Sempre se siete arrivati a questo punto del video Se volete essere salutati Magari in un prossimo video Scrivetemelo sotto nei commenti Ovviamente, ragazzi, io cerco di busciarmela Un po' poi se ci muoio Ripperotti per Rambo Ripperotti per Rambo Ah, bello Dove stai? Dove stanno? Ma stai città Città, città E qua comandiamo noi, bro Eh, scusate, però che la dovevo dire Lui ancora non l'ha capito Comanda la famiglia Rambo qua Eccolo qui in altre Birichino, tutto bene? Che zitto, dai Ancora devono capire, ragazzi Che poi comanda la famiglia Rambo C'è ancora niente Niente, non mi vuole entrare in testa E gg per Rambo Gg, intanto ho 20 shield però E la vita è la vita Toccio dove cavolo stava andando questa? Non so E niente L'ho fatto 2 kill Pochissime kill però Vabbè Dai, ci sta Meglio di niente Ci sta That's 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 Ah, potete muovere, morire? Eccolo là, eccolo, eccolo Guarda quel birichino Guardatelo, ragazzi Ma andiamo subito a pushare Morirà mai Rambo, ragazzi Scrivetelo a tutti sotto i commenti Morirà mai Rambo in questo momento? Aspetta Penso che lo dici, sai Per sapere, ragazzi Tu cavolo stava? Maura, eh Della famiglia Rambo? Eh Eh sì, fiegate, dove cavolo sta questo? Oh, cano Vabbè Boh, ma è rotto, eh Tutto il cuore, ho fatto la dita, però è rotto Dove sta, ragazzi? Ma? Scomparso dal nullo Sta qui, dai Oh Il camice Intanto, madonna Oh, ma quanto cavolo Quanto cavolo sono simpatico Ovviamente Come dirselo da solo Allora, stavamo dicendo, ragazzi Basta fare con io Oh, cavolo Adesso è uscito questo uovo Che è una bella broma Oh, sono un abbo Eccolo, eccolo, eccolo Oh, quanto godo, regalo Un po' più, più, più Ma che cavolo Vabbè Ragazzi, la pazienza è provata a fare di meglio Allora, purtroppo Questa è proprio un pezzo Eh, ok, ok Ragazzi, che dire Spero che comunque questo video vi sia piaciuto Spero che comunque, soprattutto, vi sia stato utile Sempre, se siete arrivati a questo punto Scrivetemi Scrivetemi, ragazzi Hashtag, salutami E, appunto, se siete arrivati a questo punto Vi saluterò Che dire, magari è tutto Come sempre, bella boys Ci vediamo in un prossimo video Ciao